Oggi affrontiamo un tema che da ormai 100 giorni affolla le cronache dei giornali e dei TG ma che molto spesso forse ci permettiamo di dire viene trattato in modo un po' particolare. Come sempre ad accompagnarmi in questa avventura di interviste Ruben della Rocca che saluto e ringrazio. Buongiorno Ruben. Buongiorno Francesca, buongiorno Ficci, ascolta e ci vede. E con noi l'ospite di oggi Stefano Parisi, Presidente dell'Associazione 7 ottobre. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno. Allora, iniziamo subito a parlare dell'Associazione 7 ottobre. Il 7 ottobre è una data spartiacqua per quello che riguarda non solo Israele ma probabilmente per il mondo intero perché quel giorno, il 7 ottobre, sono ormai trascorsi più di 100 giorni. Hamas ha compiuto forse uno dei massacri più feroci nella storia di Israele e in generale degli ebrei. al netto ovviamente della Shoah. Che cos'è l'Associazione 7 ottobre e perché è nata? Beh, è nata perché, come diceva giustamente lei, il 7 ottobre è una data spartiacqua, una data da cui non torneremo più indietro. È successa una cosa che pensavamo che non sarebbe mai più successa, cioè un deliberato tentativo di sterminio degli ebrei, cosa che nessuno pensava che potesse succedere e perché soprattutto quello che è successo il giorno dopo, la reazione del mondo, specialmente del mondo occidentale, non tanto del mondo arabo che si poteva aspettare, ma del mondo occidentale che è tra la democrazia sviluppata ed efficiente come quella israeliana e un regime autoritario, omofobo, dove le donne sono umiliate e sottomesse. E' un caso importante dell'opinione pubblica occidentale, ha scelto di stare con Hamas e non con Israele, perché il giorno dopo sono aumentate in modo drammatico le espressioni di antisemitismo nel mondo, non solo in Italia ma in tutto il mondo e perché soprattutto c'è una grande ambiguità, perché che ci sia una fetta così importante dell'opinione pubblica che sia a favore di Hamas è una cosa che ovviamente spaventa tutti noi, ma la cosa che più spaventa è quella enorme silenzio e ambiguità dei presidi delle università che hanno lasciato terroristi parlare nelle assemblee degli studenti, i 4.000 professori universitari che hanno invocato la sparizione di Israele in un documento universitario, i direttori di certi giornali che lasciano che certe notizie vengano diffuse come se fossero loro. Io vorrei chiedere al Presidente Stefano Parisi, dal punto di vista lessicale l'utilizzo di parole, luoghi comuni, termini in questo conflitto tra Israele e Hamas sta giocando un ruolo determinante nella comunicazione e soprattutto da parte dell'organizzazione terroristica araba, apartheid, pulizia etnica, massacro, genocidio, il muro di Israele che è una barriera difensiva, la segregazione dei palestinesi. Che può fare l'Associazione 7 ottobre per ribaltare questa narrazione che sta diventando sempre più pericolosa perché poi è anche fuorviante? Intanto bisogna capire da dove proviene questa lettura falsa della storia. Non inizia il 7 ottobre, lo sappiamo benissimo, inizia 75 anni fa quando si cominciava a dire che esisteva il popolo palestinese, quando tutti gli abitanti di quella zona ebrei e musulmani erano palestinesi. Da lì inizia quando si dice che Israele non ha nessuna legittimità, quando invece ovviamente Israele è stata costituita dopo una risoluzione delle Nazioni Unite e quindi a piena legittimità. di esistere. Di apartheid in Israele si parla da sempre, di occupazione in Israele si parla da sempre. Nel 2005 Gaza è stata completamente liberata da quel poco che c'era di israeliani che vivevano a Gaza, eppure si continua a parlare di occupazione di Gaza e di prigione a cielo aperto. Non c'è una sinagoga, ovviamente in Cisgiordania e nei paesi arabi non ci sono più ebrei in quella zona, in tutti i paesi arabi. Eppure l'apartheid è in Israele, dove ci sono più di un milione e mezzo di israeliani arabi, musulmani che partecipano della vita civile di Israele, stanno in Parlamento, vivono la vita normale. Basta andare un giorno a Tel Aviv e ci si accorge che l'apartheid non c'è, però è tutto capovolto. L'apartheid vero c'è in quei paesi. Un omosessuale a Gaza se gli va bene riesce a scappare, se gli va male viene buttato giù dal sesto piano. Le donne sono velate. Eppure gli LGTB europei sostengono Hamas. è un capovolgimento incredibile e la cosa più inaudita è che ogni volta che c'è un attentato il consenso in Occidente verso Hamas aumenta invece di ridursi. Perché c'è esattamente questo, quelle parole non sono soltanto un linguaggio, sono dei concetti profondi per cui le persone sono convinte che il 7 ottobre è giustificato dall'occupazione e dall'apartheid. Ma questo lo leggiamo tutti i giorni. Oggi c'è un articolo sul manifesto in cui si spiega che finalmente a Laia si farà chiarezza sul genocidio che Israele sta commettendo ad Hamas, quando è evidente che il genocidio è il contrario. Il tentativo di genocidio è stato fatto da Hamas verso Israele. Allora cosa dobbiamo fare noi? Secondo me dobbiamo lavorare molto su questi temi, cioè dobbiamo capire soprattutto perché. Noi faremo dei sondaggi per capire tra gli odiatori, per capire che motivi hanno, cosa gli dice il cervello, quali sono le fonti di informazione a cui ricorrono. Dobbiamo fare analisi, dobbiamo fare controcomunicazione, non siamo gli unici in tutto il mondo, ci sono tante persone di buona volontà, tanti ragazzi giovani che stanno facendo, basta andare su Instagram, si trovano tantissimi video e reel di ragazzi che spiegano la verità e che cercano di confutare questo racconto assolutamente distorto. Però bisogna anche, secondo me, fare una forte pressione sui giornali. Ieri ho scritto al direttore di un'agenzia importante italiana perché virgolettava le cose che uscivano da Israele e invece non virgolettava le notizie che venivano da Hamas, come a dire quella verità, mentre invece quelle che escono da Israele le virgoletto perché sono la fonte Israele, mentre invece quelle che vengono da Hamas non c'è una fonte specifica perché è la verità. E questo parliamo di un'agenzia importante italiana appartemente a un grande gruppo industriale che ha fortissimi interessi nei paesi arabi. Allora, noi su questo dobbiamo lavorare. Io ho scritto una mail a questo direttore che ancora non mi ha risposto, fra poco questa mail la metteremo sui social perché deve rispondere di questo tipo di atteggiamento. Parliamo tanto di etica giornalistica, c'è un'etica giornalistica? Tu ve la puoi pensare come ti pare, però non puoi non dire che quando l'informazione viene dal ministro della sanità di Hamas, non puoi dire che quello è il ministro della sanità di un'organizzazione terroristica riconosciuta a livello mondiale, essere un'organizzazione terroristica. Se invece lo fai passare come il ministro della sanità di un paese libero, democratico e in cui vigi dello Stato di diritto, allora stai commettendo un problema di etica professionale. Scusa Francesca, mi sovrappongo perché è una domanda che chiama l'altra. In realtà a questo punto la grande battaglia che ci proponiamo un po' tutti è quella di non solo cambiare il lessico, ma conseguenzialmente andare a ricercare quelle fake news, andare a stanarle continuamente, andare a rispondere continuamente. Quali saranno i mezzi che la 7 ottobre dell'associazione 7 ottobre metterà in campo, proprio per andare a fare questa controinformazione e questa ricerca di verità di cui parlavi Presidente? Tanti mezzi perché ovviamente bisogna parlare a tanti livelli, per esempio è fortissima anche per l'ignoranza dei giovani, degli studenti, è molto forte la percentuale di studenti che negano la Shoah, che pensano che la Shoah non sia esistita, che pensano che il 7 ottobre sia fatto, i video del 7 ottobre sono stati fatti con l'intelligenza artificiale, abbiamo un grande problema sulle scuole, noi chiederemo al Ministro Sbalditarra di poter accedere a tutti i libri di testo per capire cosa gli insegnanti insegnano oggi nelle scuole, faremo lo stesso sull'università, avremo dei nostri testimonial che parleranno nei social per spiegare effettivamente le cose come stanno, per rispondere a tante domande che le persone in buona fede si stanno ponendo, perché poi siccome il fiume di informazioni è tutto un fiume di informazioni false, c'è anche tanta gente in buona fede che pensa che sia vero quello che ci sia in Israele veramente l'apartheid. Ricominceremo con un appuntamento a Gerusalemme che era un'organizzazione che è stata attiva fino al 2016, che portava ogni anno opinion leader, parlamentari e giornalisti a conoscere la vera situazione in Israele, nacque dopo il 2001, dopo l'attentato alle torri gemelle e da allora sono stati portati tantissimi parlamentari e giornalisti a conoscere la vera situazione in Israele, tante persone hanno cambiato opinione, hanno eliminato i pregiudizi che avevano, ora ancora di più andrà fatto dopo il 7 ottobre, appena sarà di nuovo agibile la possibilità di andare tranquillamente in Israele in sicurezza. Ecco, sono tutte attività che noi vogliamo fare, metteremo su un centro studi che ragionerà su questo, con persone di altissima qualità che si sono già dette disponibili a lavorare con noi, insomma è un'attività di lungo periodo, dobbiamo continuare a farla e ovviamente è molto importante che gli organi di informazione da un lato ci sentano e dall'altro noi si deve avere il coraggio di dirlo, anche ai grandi organi di informazione. Quando questi atteggiamenti assecondano le fake news dobbiamo denunciarli, la gente deve sapere che una cosa è quello che esce sui social, ma quando c'è un editore di mezzo la responsabilità della notizia che viene è in capo all'editore e l'editore deve assolutamente assicurare etica giornalistica, al di là di quello che uno può pensare, ma l'etica giornalistica è fondamentale. Presidente, prima di salutarla un'altra domanda, sì oggi lavoriamo con l'associazione, lei lavora con l'associazione perché è in corso una guerra, questa guerra prima o poi ci auguriamo tutti che finirà, ma il dopo, dopo la fine della guerra, quel 7 ottobre, l'associazione 7 ottobre si dovrà continuare ad impegnare e al di là dell'attività che state facendo in questo momento e che lei ci ha appena detto continuerete a fare, qual è l'impegno futuro, diciamo nel post guerra dell'associazione 7 ottobre? Quando finirà la guerra speriamo presto e speriamo con l'eliminazione dei vertici di Hamas, perché questa è la guerra che si sta combattendo, che dovremmo combattere tutti noi occidentali a fianco di Israele. Quando questa guerra finirà non finirà il conflitto tra israeliani e palestinesi, continuerà a esserci un pregiudizio contro Israele, continuerà a esserci minacce sulla sopravvivenza di Israele, continuerà a esserci un paese come l'Iran che sta investendo in tante organizzazioni terroristiche proprio per fare una guerra per procura per distruggere Israele, quindi continuerà a esserci un lavoro da fare per la difesa di Israele, ma nello stesso tempo continuerà a esserci un lavoro da fare per la difesa dei valori occidentali in Occidente. Noi vogliamo lavorare molto su questo, perché il dramma dei valori che si stanno smontando, del fatto che noi rinunciamo ai nostri valori di democrazie liberali, dello Stato di diritto, del rispetto della persona per abbracciare dei valori che sono lontanissimi dai nostri, dove addirittura il senso della vita viene meno, io credo che da questo punto di vista il nostro è un compito di lungo periodo, di molto lungo periodo purtroppo, e quindi lavoreremo ancora a lungo su questo e siamo per fortuna, abbiamo la forza di che tante persone oggi di grande qualità si stanno associando, siamo nati meno di un mese fa e abbiamo più di 250 associati e tutte persone che hanno voglia di lavorare e dare una mano con noi, quindi ecco, siamo convinti che possiamo fare una grande rete anche di altre organizzazioni che si occupano di questo per fare massa critica e avere una capacità di forza e di comunicazione che ci consenta di raggiungere piano piano dei piccoli risultati. Prima di chiudere posso chiederle di ricordare l'appuntamento a questo punto di domenica a Roma? Sì, certo, domenica a Roma avremo un evento importante perché presenteremo l'associazione, domenica alla Sala Umberto alle 10 e mezzo, avremo il primo evento di presentazione dell'associazione dove parleranno degli esperti che vengono da Israele, sia musulmani che ebrei, dove parleranno esperti di geopolitica e dove alcuni importanti e significativi, direi più che importanti, soci, associati a 7 ottobre daranno la loro testimonianza. Sarà un evento molto importante, ci auguriamo che venga tante persone perché è importante dare la sensazione che qualcosa stiamo facendo. E poi a Milano, Presidente, giusto, il 28? Sì, certo, e poi a Milano il 28, in Comunigio invece, presenteremo sempre l'associazione 7 ottobre alterato Franco Parenti. Grazie Presidente di essere stato con noi, di averci illustrato l'attività di 7 ottobre, grazie a Ruben della Rocca per avermi accompagnato anche questa volta in questa avventura e grazie a tutti i telespettatori, l'appuntamento è alla prossima intervista di UFC Serebato. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti